salve ragazzi siamo qui in un nuovo video spero che i video passati vi possano essere stati utili almeno un po' per quanto impegno ci ho messo e spero che prima o poi anche le persone che non hanno lasciato l'iscrizione a questo canale si accorgono che i video che faccio ci metto molto impegno e quindi molto tempo e che siano contenuti che li possano aiutare in qualsiasi modo comunque partiamo a bomba questo è un video relativo ai consigli per acquisto a lungo con uno sguardo al futuro per la precisione perché cercherò di dirvi tutti gli oggetti migliori che vi servono per expare diciamo con una discreta facilità fino al 95 e andiamo andiamo un po' io vi consiglio di guardare in lontananza ma con oggetti che potete prendere da subito quindi partiamo con scarpe di legno 1500 hp minimo come minimo che stanno più o meno sugli 8 won ovviamente se le pagate meno meglio ancora lisce senza senza hp che non ve le consiglio troppo però se ve le scioppate voi fate voi insomma sono sui 3 won che hanno resistenza lampo quindi così ve le portate fino al 95 tranquillamente che in atlantide serve lampo collana sempre con lampo che è la collana di rame che liscia sta sempre a 3 won più 9 e con 2000 hp sta intorno agli 8 se poi c'avete altri bonus utili trafiggenti critici stunno e sotto sempre qualcosa in più a pagate di più però poi vi può essere vi può bastare con 2000 hp poi orecchini debbano che potete prendersi dal 35 quindi il 35 vi ricordo fatevi il medio e poi dovete lasciare pure l'esperto così potete scappare in mezzo ai mostri se state per morire ecco questo vende un paio di orecchini debbano vediamo come so a 6 won 6 won con 10 orchi 20 diavolo che può essere pure 10 zombie quindi non male quindi conclusione a 4 e mezzo mono bonus diavolo ce lo potete trovare se no fa fino al 75 vi potete accontentare tranquillamente dove un ebano liscio allora sullo scudo c'è un grosso punto di domanda io non vi consiglio di spendere troppo a livello più basso del 61 per lo scudo perché lo scudo rotondo nero costa tantissimo rispetto a quello falco tigre che sia perché lo scudo del 61 e i requisiti di item up dei costi sono molto più bassi quindi non vi consiglio di prendere quelli che ne so spende tanto per un rotondo nero perché serve per la bianca per la blu per la rossa più altri oggetti le zampe di ragno che costano pure parecchio quindi io vi consiglio di andare un po alla come viene viene fino al 61 e poi prende direttamente lo scudo più 9 e se volete prenderlo già bonusato vi serve quanti stun e diavolo che è il requisito minimo per spare bene in in atlantide allora il bracciale il bracciale c'è chi dice sì il bracciale lacrime è fortissimo perché da pure critici è ok da pure critici ma non c'è hp quindi dovresti trovare nel bracciale che ci escono bracciale lacrime hp però dovresti trovare hp lampo diavolo e assorbiti che sono tanti bonus quindi se vuoi essere power play dovresti trovarlo così però io ti consiglio di essere un po più economico e fatte un bracciale d'argento un bracciale di platino con 15 lampo e sta a posto dopodiché passiamo alla corazza in tanti video ho detto fatevi la corazza del 34 perché alla fine pexpa oltre il 75 vi serve solo lampo se vi fullate di lampo non vi servono manco agli hp ma questo è un altro punto fatevi la corazza con hp e lampo 15 se ci riuscite più lampo c'è vedere più importante lampo degli hp che capisse se ci esce valore d'attacco se ci esce assorbiti tanto meglio però l'in più importante hp lampo che lo scu si buonanotte la corazza del 34 la dovete mettere pietra con evasione e fretta più 4 non difesa non inchino perché non serve né difesa né inchino poi in atlantide quindi fatevi solamente lampo e hp e evasione e fretta che questa più o meno la pagate con hp e lampo intorno agli 8 won pure questo quindi poi facciamo il calcolo di quanto spenderete il bracciale ve l'ho detto l'elmo è abbastanza economico quello del 21 perché non servono perle se se troppa già più 5 e quindi si può far facilmente più 9 quindi lo massimo 1 won ci spendete per quello quindi l'arma se non ci avete vi è scaduta l'arma dei giovani eroi per xp fino al 75 vi basta un ferro 30 metri o una luna 30 metri per poi passare a una velenosa almeno 30 metri se il minimo dei metri utilizzabili per xp è 30 secondo me sotto ci avete più difficoltà la stola è importante ma non indispensabile il talismano uguale nel senso se ci avete tanti soldi da spendere ci avete pure in talismano forte contro mostri del deserto vi può essere utile in covo 2 allora quindi abbiamo detto un po' il punto della situazione per quanto riguarda xp fino al 61 io vi consiglio di provare anzi fino al 55 vi consiglio in covo si in covo in dagli orchi o in covo 1 poi se riuscite a regge dal 50 perché vi mettete le pozze della difesa quindi avete già 100 di difesa dalla pozza almeno 100 di difesa perché quell'altra fanno un po' schifo poi avete la cavalcatura potenziabile che vi ricordo si troppa in alcuni momenti dai metin a determinati orari in determinati giorni e a parte questo dovete arrivare più o meno sui 700 di difesa per regge senza troppi problemi con una sciamana che vi buffa quindi se non volete sbantellare in covo 3 vi bastano 600-700 di difesa per stare in covo 2 senza sciamana e a parte questo penso di avervi detto tutto ah una piccola aggiunta che potreste scegliere di affrontare se proprio riuscite a averci i soldi per comprarvi o farvi un leggendario opaco con difesa danni medi e danni medi e difesa danni medi e? che manca? ah e valore d'attacco vi può essere molto utile che è quello dai 150 anche quello 150 di difesa quindi è abbastanza buono per expa in covo poi dal 75 in poi ci dovete avere almeno un'ottantina di lampo se proprio state messi male con quanto lampo ci avete vi ricordo che ci stanno i costumi che si possono comprare che ci aggiungete 15 lampo sia sul costume della testa diciamo dei capelli o comunque il vestito e vi danno altri 15 e 15 con 30 lampo solo dei vestiti andate molto meglio quindi consiglio mio aveci quindi per atlantide almeno 30 medi almeno 40 50 diavolo e almeno 80 lampo per regge decentemente poi se riuscite a veci 90 lampo la sciamana che vi buffa fate tranquillamente il 95 pure manco il 90 perché secondo me per inizia vi va benissimo un pg al 90 in modo tale da poter fare le schegge in mappe 90 i made in mappe 90 e fate parecchi soldi quindi non c'è penso nient'altro da dire comunque qualsiasi cosa chiedetemi su discord mo facciamo il recap di quanti soldi spendete per gli oggetti final per il Grazie a tutti